Continua ad essere avvolta nel mistero la vicenda del vaccino russo Sputnik in Slovacchia, prima le dimissioni del primo ministro Igor Matovic, in seguito alle polemiche scaturite per l'acquisto di 2 milioni di dosi dalla Russia mai utilizzate e ora l'analisi condutta dall'Agenzia del Farmaco Nazionale sul primo lotto di 200.000 dosi consegnate a Bratislava. L'inchiesta, che avrebbe rilevato un'efficacia pari al 92%, non sarebbe ancora in grado però di valutare i benefici e i rischi effettivi di Sputnik a causa della mancanza di dati da parte della casa produttrice. Le fiale consegnate al governo e conservate in un magazzino non conterrebbero lo stesso medicinale che era stato valutato positivamente a inizio febbraio. La portavoce del ministero della salute slovacco ha fatto sapere che i test sulle fiale non sono ancora conclusi. Per avere delle risposte definitive sulla vicenda, si dovrà attendere la fine della settimana o l'inizio della prossima. Non c'è nulla comunque che il governo vuole tenere segreto, tutte le informazioni verranno rese pubbliche. In Slovacchia, dopo le dimissioni del premier, la palla passa al ministro della salute che dovrà decidere se vaccinare o meno la popolazione con Sputnik, vaccino che non è ancora stato autorizzato dal Lema, l'Agenzia Europea del Farmaco. Intanto la Germania, anche sotto la spinta della Baviera, che avrebbe già siglato un accordo con Mosca, sta pianificando di acquistare per tutto il paese il vaccino russo contro il Covid-19. Una mossa sorpresa, inrutta con la Commissione Europea.